Quando è necessario parlare e quando tacere. 11 luglio 1976 Figli di Letti, sono la madre vostra, la regina del Carmelo. Desidero che mi preghiate sotto questo titolo per sollecitare dal Signore il dono della pioggia. Non pregò il profeta Elia sul monte Carmelo per ottenere la pioggia sopra le terre riasse dal sole? È molto importante per voi che il Signore abbia a concedervi questo dono, per il quale non vi debba venire a mancare il pane, e perché, provvisti delle cose necessarie al corpo, abbiate ad elevarvi riconoscenti e buoni verso Dio. Desidero anche che aiutiate con la preghiera la vostra mamma spirituale, a cui non mancano difficoltà e sofferenze. Date e vi sarà dato, vi posso ripetere, e ciò di cui essa verrà arricchita attraverso la vostra preghiera, ricadrà su di voi in tanto aiuto e nell'abbondanza della sua donazione. Farete un po' di giorni di sosta. Vale a dire, non verrete qui a pregare, ma moltiplicherete il bene per quante persone siete qui. Troverete anime buone che vengano nella vostra casa, o in chiesa, a recitare il rosario con voi. Potrete anche leggere un pensierino riguardante il sangue di Gesù, che vi è stato dato in altro tempo, e sarete tanto contenti. Quelle persone poi che vanno altrove, non dimentichino di essere dovunque, non solo alla presenza di Dio, ma anche in mia compagnia, per cui l'apostolato e il comportamento cristiano saranno molto facili. Oggi voglio ricordarvi un fatto evangelico assai significativo. Fu presentato a Gesù un indemoniato muto, e quando questi fu liberato, cominciò a parlare. Ecco, il silenzio può presentare per voi un problema. Qualche volta vorreste parlare per impedire il male, e c'è come qualcuno che vi tappa la bocca e vi fa tacere. Fate ben attenzione, perché di quel male che potreste impedire e che non impedite, potreste essere responsabili. Certamente, il vostro parlare non deve travolgere come una valanga o come un'ondata burrascosa, deve essere l'affermazione di una verità, o la sincera manifestazione di un pensiero o della propria volontà di bene, che non abbia a suscitare ire o disappunti tali da rompere l'amicizia. Chi vi sente, deve capire che voi volete il bene, senza pretendere di imporre il vostro modo di pensare ed agire. Vi sono però dei momenti in cui è necessario saper tacere. Quando si è in compagnia, è facile che la mormorazione venga ad imbrattare la lingua e le coscienze. Ecco quando è veramente il caso di tacere. Con la mormorazione si rovinano molte volte la reputazione e l'onore delle persone, anche se non si arriva alla calunnia. Occorre perciò essere prudenti e fare del silenzio un linguaggio gradito a Dio. Quanto gode il mio cuore di parlare ad anime silenziose, sempre in ascolto. Queste anime crescono sempre più nella grazia e sanno esprimere molto bene ciò che hanno dentro, con la dolcezza del sorriso, più eloquente della parola. Così, parlando nel nome di Dio e tacendo per suo amore, diventerete tanto somiglianti a Gesù e a me e ci rallegrerete. C'è un altro momento importante in cui dovete parlare e uno in cui dovete tacere. Dovete parlare quando si offende Dio con la bestemmia, per riparare e per ammonire. E tacere quando vorreste far valere i vostri meriti e parlare di voi stessi. Lodare Dio e praticare l'umiltà è veramente un bel grado di perfezione che i cristiani devono praticare. È difficile, lo so, ma ci sono io, che mi metto davanti a voi come modello e vi aiuto. Per questo motivo non dovete temere ed essere forati. Passano i giorni della prova e poi vi trovate contenti di aver sofferto, di aver traciuto, di esservi umiliati. È come se tutte queste cose diventassero gioielli per voi, e tutto serve per prepararvi la vita eterna, che non finirà mai più, e che sarà perfettamente felice. Vi sono tra voi anime provate dalla calunnia e dalla sofferenza morale, spose ingiustamente cacciate dal marito, mamme incomprese e cacciate dai propri figli. Figlie mie predilette, sappiate tacere, amare ed offrire. La vittoria sarà vostra, ve lo prometto. Alle care religiose presenti, la mia tenerezza. A coloro che diffondono il mio rosario, una promessa particolare, moltiplicherò le grazie spirituali quanti sono i grani delle corone che diffondete. Arrivederci, figli! La mia benedizione abbia oggi la solennità di un dono divino. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vi benedicano con me.